... Mister De Angelis, primo tempo ad alta velocità, subito gara nei binari giusti e poi avete gestito. Sì, contrariamente al solito dove normalmente inizialmente quando non affrontiamo squadre di alta classifica la squadra certe volte tende a sottovalutare l'impegno e invece no, questa volta al contrario siamo partiti subito con la giusta intensità, abbiamo creato gioco, siamo andati a conclusione, dopo 4-5 minuti abbiamo sbloccato il risultato, sì oggi diciamo abbastanza bene. Paradoxalmente ci ha penalizzato il fatto di andare subito sul 4-0 ancora prima della fine del primo tempo e ho visto immediatamente infatti che abbiamo rallentato e non abbiamo più giocato come dovevamo, l'individualismo ha cominciato a prevalere. Tra il primo e il secondo tempo ho dovuto riprendere un attimo i fili del discorso e nel secondo tempo abbiamo ricominciato a dare una prestazione degna diciamo della partita, altrimenti avremmo rischiato come al solito di sottovalutare o sprecare delle situazioni di gioco che normalmente invece portiamo a compimento. Insomma, sì, è andato abbastanza bene, sono abbastanza soddisfatto del gioco e dell'intensità che abbiamo espresso. Mister Cristofaro, primo tempo dove Lanzio Lavinio ha segnato quattro reti, poi qualche decisione contestata da parte dell'arbitro, mentre nel secondo tempo comunque ci avete messo il cuore, grande possesso palla e qualche occasione buttata via. Di troppo, aggiungerei. Buonasera innanzitutto e niente, sono molto arrabbiato per il primo quarto d'ora, 18 minuti regalati all'avversario, loro sono andati in vantaggio con degli errori grossolani. Grossolani, questo me l'aspettavo perché oggi è un mese che ho preso la squadra in una situazione di classifica molto deficitaria diciamo e i ragazzi erano molto scoraggiati al mio arrivo. Insomma, quando non arrivano i risultati è così. Stiamo cercando di lavorare insieme alla società, insieme ai ragazzi, sono sempre presenti agli allenamenti e questa situazione secondo me era dietro l'angolo. Però sparirà al più presto da questo angoletto. È così. I ragazzi avevano in mente un altro tipo di gioco, io ho le mie idee e ci vuole un po' per metabolizzarle. E niente, non ho altro da aggiungere perché dopo 18 minuti 4-0 è inutile insomma. Poi la squadra ha avuto una bella reazione, una bella reazione anche nei 7-8 minuti finali del primo tempo la potevamo riaprire in occasioni nette, mancate. Ma ripeto, sono dovute dal nervosismo, dalla mancanza di sicurezza, di risultati che non arrivano. Mi dispiace per sabato prossimo ci ritroveremo senza il capitano, senza Campoli. Campoli sono due atleti per noi fondamentali, per la nostra Rosa. Niente, ha fatto accenno lei all'inizio all'albitraggio però è così. Qualche decisione scomoda per noi. La mandiamo giù e cerchiamo di trasformarla in rabbia positiva per la prossima partita.